Ciao ragazzi qui Gabi ed eccoci al terzo episodio delle Hunger Games, stavolta siamo su una mappa tutta ghiacciata, guardate è un'isola di ghiaccio, sono sempre da solo, non ho un teammate questa volta ma nei prossimi episodi spero di farla con uno di voi, quindi se volete partecipare con me nei prossimi episodi delle Hunger Games e giocare insieme, magari ci farò anche video, scrivete nei commenti qui sotto il vostro ID di Minecraft, ok iniziamo questa cassa mia, ok arco, frecce, qua hanno preso tutto, scappiamo, scappiamo subito via ok non ho idea di dove siano le casse in questa mappa, è la prima volta in assoluto che la gioco, direi di dirigerci qua, dovrebbe essercene una secondo i miei calcoli, lì sopra sicuramente ah qua ce n'è già una, ah no, mi sono confuso con un albero, già il tizio con l'armatura quello la vuole andare nella mia stessa zona quindi no no, non posso rischiare andare da lui, c'è già uno che sta controllando quella barchetta ma non mi interessa, anche qua dentro siete ovunque cavolo, siete ovunque, no, devo cambiare totalmente zona, per fortuna non mi sono ancora vedete, ho l'armatura nell'inventario in basso, ma non la metterò sicuramente perché appena me la mettono, loro come dei falchi mi attaccheranno perché vedono che ho già le cose che ho preso, ho preso già delle cose decente, le vogliono subito rubare quindi bisogna far finta di essere dei barboni senza niente, questa è la tecnica ragazzi ricordatevi, far finta di essere barboni senza niente per non cadere in trappola ok, no no, c'è già uno lì, anche con la spada tutto, ma quante armature di ferro c'erano nelle casse, tutti ce l'hanno, tutti, quindi lasciamo perdere anche questa zona, cavolo sono veramente messo benissimo eh, allora, forse qui sopra questa montagna scalandola troverò qualcosa, ok, là c'è un altro con un'arma, anche quello con l'armatura di ferro io non ci credo, magari anche mi segue questo, vediamo se mi segue, ci metterà un anno a raggiungermi dai, lo vorremmo farcela fuggire, forza di saltellare, sto perdendo anche il cibo, la barra del cibo speriamo che non mi scada, bene, allora questa zona qui, qui andiamo adesso, qui sopra 99% c'è una cassa e voglio raggiungerla, non ci resta che fare la nostra scalata al miliardo no, c'è anche uno là sopra, io non ci posso credere, vabbè mettiamoci i sandalini magari con un po' di fortuna gli tiriamo un calcio, lo buttiamo giù alla check norris solo che qua come proseguire, oh no c'è un altro qua giù qua ci sono alleati, cosa succede, si è buggato l'uomo nella roccia allora, si stanno tirando botte di santa ragione non trovo un modo per salire prendiamo tutti, scappiamo scappiamo tutti tutti che mi seguono, aiuto tutti che mi seguono no, no, non ci posso credere per favore, per favore, non ho le mele d'oro stavo scherzando non ho preso niente ma guardatelo quanto veloce è quell'orso polare no, aiutami Stevie Stevie, Stevie, Stevie aiutami no ok hanno cominciato ad attaccare Stevie no allora, devo mettermi l'armatura alla velocità della luce devo mettermi sta armatura alla velocità della luce e attaccarlo allora, proviamo a fare E ok ce la farò ah, ah, chi chi è il padrone del mondo? chi è il padrone, eh? vieni qui, amico adesso che ho io la spada e l'armatura non fai più tanto il figo vieni qua monnaggia ti tocca mangiare la mela d'oro vieni qua vieni qua dove sei? dove scappi? non hai speranza non hai speranza sei stato trollato e ora è la fine per te è la fine di tutto è la fine del mondo posso tirargli una freccia? no guardate come scappano come scappano sti ragazzi in preda al panico ma mi ha trollato no, non ci posso credere oh, adesso è quasi finito un altro colpo così evviva adesso anche tu vuoi morire? questo vola sopra il ghiaccio ma mia ne ho per tutti tranquilli ne ho per tutti mi spadate di tutto allora io devo assolutamente trovare qualcosa da mangiare perché se non trovo qualcosa da mangiare sono finito poi ci sono altra gente che si è alleata insieme sono già tutti in team questo lasciamolo un po' in pace mangiamoci il pesce questo qua è ancora lì ancora che mi guarda ah si è fermato team un corno non faccio più team mi dispiace mi serve la tua armatura il tuo casco qui che c'è? uno senza niente no, non lo cago vabbè dai lo cago lo cago lo cago lasciamolo all'altro in pace che tanto mi farà correre per tutta la mappa e vediamo se quello ha il cibo quello dovrebbe essere il mercante con il cibo il nostro mercante eccolo qui si amico tranquillo controlla controlla quello sarà l'ultimo igloo che vedrai in tutta la tua vita si guardatelo poverino ciao ah pieno di cibo sono guardate l'inventario guardate quanta cosa avevo mamma mia allora questa mi piace di più no facciamo quelli d'oro così sembriamo più potenti dai ok qua le angurie mangiamocene tutte e recuperiamo un po' di vita allora organizziamoci un po' l'inventario qui l'arco abbiamo un bastoncino possiamo dopo farci una spada di diamante se troviamo un altro pezzo di diamante c'è se un altro la carota d'oro io non so cosa faccia la carota d'oro cioè da un po' ok io ho ricominciato a giocare a minecraft da poco quindi non mi ricordo bene anzi non l'ho proprio mai scoperto oh il tizio di prima ha fatto un giro adesso ce lo ribecchiamo ora che siamo piani di vita non si aspetterà questo attacco da dietro dai 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 è la tua ora è giunta la gassi un po' meno amico forse per domani ce la facciamo no perché guardate un'ora le anger games passano così tu sei lì e insegui un'ora uno che sprinta su tutta la mappa pur di non morire ha preso una freccia vuole fare e questa è stata la fine che ti ha condannato va bene lui ha il potere di teletrasporto qua c'è un altro a caso e questi mi fanno il culettino a strisce perché si sono alleati guarda come guardate devo evitare frecce come non mai no mi sono impiantato proprio lì per fortuna vedo che sto laggando anch'io perciò mi hanno visto teletrasportarmi e quello là si era impiantato ho avuto una fortuna oscena anche io qua ragazzi mi sa che non ce la faccio vincere questa anger game si sono alleati sono da solo devo correre e mi sa che mi raggiungono pure guardatelo quello là è lì dietro lasciamolo ci rincorra lui è il suo amico del cavolo che mi stanno inseguendo come non mai ok l'unica speranza è che questo mi caghi devo farli combattere fra di loro ok tu amico tu amico tu amico devi venire da me devo stare attento anche a quello che tira la freccia perché per un pelo mi sta beccando è questo ok se ne è andato il suo amico se ne è andato se ne sono andati mi hanno lasciato perdere per fortuna ragazzi che mamma mia ancora quello di prima dobbiamo fare team non ce la facciamo devo chiedergli di fare team con me perché non abbiamo speranza altrimenti lui ormai ha preso paura ha capito che non può fare dai dai è l'unica cosa che puoi fare bene speriamo che non mi attacchi ok gli ho detto di andare a prendere questa cesta ragazzi sono stato costretto quei due erano in team ok mi ha detto che non c'era niente bene ok ora che siamo in due dovrebbe essere più facile perché quei due si erano alleati ragazzi non ho altra scelta mi è toccato fare team con sword benissimo ora tra un po' risponderanno le risorse a centro mappa come al solito dobbiamo trovare assolutamente un modo di prenderle aspettate mi prendo ancora vita ok molto meglio ora molto meglio centro mappa vediamo se c'è qualcuno a centro mappa ancora no ancora non c'è nessuno ancora nessuno pian pianino sword seguimi andiamo di soffiatto di soffiatto qui potremmo andare qui sopra e tendergli un'imboscata non ho frecce neanche una cos'ho? mi servirebbe un pezzo di ferro ecco qua sono in due lì sono in due lì dobbiamo ucciderli aiuto sword dobbiamo fare vediamo se ce la faccio quella la spada di legno dovrebbe morire ce la fai morire? oh ma quanto levano? quanto levano sti qui? questi sono o citero non so guarda quanto mi ha levato è incredibile va bene che io ho forse un'armatura peggiore però le ceste non si sono ancora non si sono ancora respawnati gli oggetti nelle ceste come possiamo? no non possiamo fare team dicono delle bugie chiedono di fare team e poi ci uccidono è morto uno è quittato vieni sword andiamolo ad attaccare andiamolo ad attaccare ha buttato via la spada per sbaglio si si tira pure le tue canne da pesca sampei sei morto no sono morto io che caspio ma che cosa è successo ragazzi come sono morto mi ha ucciso in due secondi ma questo è un cittone assurdo com'è che sono morto lì va bene ragazzi non so cosa è successo mi sono visto scendere i cuori in una maniera incredibile mai visto scenderli così veloce penso di concludere l'episodio qui i prossimi episodi li farò insieme a voi quindi penso di farli insieme a voi il prossimo Hunger Games sarà con uno di voi iscritti quindi scrivete nei commenti se volete partecipare nel prossimo video lo commenteremo insieme andremo su skype su timespeak e giocheremo ok ragazzi questo era tutto per il terzo episodio dell'Hunger Games noi ci vediamo al prossimo video ciao momenti LOL di questo Hunger Games non trovo un modo per salire ah prendiamo tutti scappiamo scappiamo tutti tutti che mi seguono aiuto grazie a tutti